Bentornati sul mio canale! Chi l'avrebbe detto? Dopo un anno io tornavo a fare video su YouTube. Folle come idea! Ogni volta me ne sveglio dopo un anno per pubblicare un video, e poi se ne parla per l'anno prossimo. Quest'anno abbiamo una novità, se così vogliamo definirla, una novità ma anche un tuffo nel passato, perché oggi abbiamo un dispositivo molto importante. Oggi abbiamo questo dispositivo qui. Abbiamo lui, l'iPhone 4S. Un dispositivo che ha fatto la storia, che ha cambiato l'uomo, e soprattutto i modi di vedere e i modi di pensare. Questa è stata una delle rivoluzioni più grandi, una delle creazioni più grandi, se vogliamo così definirla, da parte di Steve Jobs. Direi di non perderci in chiacchiere e passare a vedere le caratteristiche che ha questo telefono e che cosa ha portato. Prima di ciò, quanto è bello fare questa cosa, sigla! Allora, ci sono molte cose da dire su questo iPhone. A partire già dallo schermo. Abbiamo uno schermo rietinato a 3.5 pollici, ha una risoluzione di 960x640 pixel, quindi non ci aspettiamo questo grande schermo di alta risoluzione, ma comunque abbiamo avuto un telefono di 13 anni fa, quindi all'epoca era la cosa più bella, più colorata che si potesse vedere, dato che gli Android all'epoca erano un po' lasciamo perdere. Comunque, uno schermo IPS, tutto sommato i colori si vedono bene, ancora tuttora non dà segni di schermate verdi, gialle, rosse, cose varie quando i schermi vanno in su riscaldamento, quindi un punto in più a favore dell'iPhone che Android ancora tuttora non risolve. Cosa abbiamo comunque? Abbiamo molto da parlare. L'estetica, l'estetica è bellissima. L'estetica c'è poco da dire. È l'estetica che adesso è richiamata anche sui nuovi iPhone. Dall'iPhone 12 in poi è stata ancora riusata questa estetica con i bordi stondati, con appunto questo molto più spessore. Cosa che al momento è ancora la più fastidiosa è avere questo connettore in basso, che era il famoso 20 pin di Apple, che è la cosa più scomoda da usare, oltre che dovresti cercare, non lo so, ormai su Amazon i cavetti perché non li trovi più in giro. A parte ciò, abbiamo lui che è tutto sommato. Ho provato a scaricare delle applicazioni. Risultato? Non ne ho scaricata neanche una. Perché? Perché in questo momento su questo iPhone sta girando iOS 9.3.6, quindi l'ultimo aggiornamento disponibile è il fatto che ha 512 MB di RAM. Cioè adesso siamo abituati, io tipo c'ho il Z Fold, che ha 16 GB di RAM, il NoFing che ha 8 GB di RAM, più o meno giriamo sulla fascia tra gli 8 e i 16 GB di RAM ormai sul telefono. Neanche più quelli da 4 ormai sono più visibili, cioè non girano neanche più sul mercato quelli da 4 GB di RAM. In questo momento potrei dire una stronzata palese, però va bene lo stesso. Lui aveva 512 MB di RAM, aveva una memoria di 16 GB che però potevi scegliere se volevi quello da 16, 32, 64. Io ho trovato questo da 16 GB, ho detto vabbè per il video, per il content ci sta. Abbiamo tante tante cose, ma la cosa più brutta forse di questo telefono, diciamo attualmente, sempre parlando a livello attuale, la fotocamera. Perché abbiamo una fotocamera posteriore da 8 megapixel, quindi una super fotocamera che però ha il problema di non mettere a fuoco. Questa fotocamera non mette a fuoco quella posteriore. Quella frontale è spettacolare. Quella frontale incredibilmente l'ho vista, l'ho provata un paio, ho provato un paio di scatola, ha delle potenzialità incredibili quella frontale, nonostante sia una 2 megapixel. Quella posteriore da 8 megapixel non capisco perché ha dei sbalzi tipo di pixel, non mette a fuoco, problemi vari che non sono riusciti a risolvere. Ed era una fotocamera con un'apertura focale da 2.4. Quindi c'era praticamente uno zoom. Vabbè, per il flash, vabbè, le classiche cose. Capsula auricolare, come possiamo vedere la teleestetica, la capsula auricolare, frontale, la fotocamera, il sensore di prossimità. Sul retro, appunto, abbiamo la fotocamera e il flash. Lo bel logo Apple messo così, bello grande, che così piace a noi. Questo è il modello A1387. Cosa te possiamo dire di questo iPhone? Incredibilmente troppo del mio telefono. La batteria. La batteria è uno dei, secondo me, dei punti di forza di questo iPhone. Perché parliamo di una batteria che era 14.000 mAh circa, tipo, mi ricordo che erano 14.032. Era incredibile ed è ancora tuttora incredibile. Questa non lo so se sia stata cambiata o meno, però devo dire, regà, che mi mantiene tantissimo, dura tantissimo. E comunque ci ho un po' provato le app, non che possa fare tutto questo gran gaming. Principalmente non si può fare più niente su quest'iPhone. Sono riuscito a trovare solo un modo per guardare i video su YouTube, ovvero andando sul Safari. Safari ancora funziona incredibilmente. E guardare lì i video. L'app di musica funziona se sia l'abbonamento. L'App Store. L'App Store, se andiamo a vedere ancora in questo momento, le app ci escono. Cioè, ci sono le app, adesso non carica. Comunque le app ci sono, però chiedendo di installare le app oppure di acquistarle, ci dà il messaggio di errore, quest'app non è compatibile con il tuo iPhone e non c'è nessun'app compatibile con quest'iPhone. Anche perché lui, di base, era iOS 5, adesso l'ha aggiornato al 9.3.6. non è una delle migliori, secondo me, una delle migliori iOS che sono stati creati, però ce lo facciamo andare bene, al finale. Di cos'altro possiamo parlare? Possiamo parlare di processore. Di processore parliamo di una 5, dual core, 1 GHz. Cioè, adesso siamo abituati ai processori octa-core, deca-core. Sono dei processori incredibili quelli attuali. Questo telefono con iOS 9 gira ancora con un processore da 1 GHz con la bellezza di dual core. Allora, sono passato un attimo con l'inquadratore in primo piano, così vi faccio vedere un attimo l'iPhone. Aveva il pannello delle notifiche che era fatto così, che ci faceva vedere le informazioni di oggi e soprattutto le notifiche, che erano su un secondo spazio. Poi abbiamo il pannello inferiore, che era la cosa più clamorosa che era stata inventata. Appunto, qui avevamo tutte le impostazioni più rapide, quindi fotocamera, calcolatrice, le torcia, non mi ricordo questo che cos'era. Abbiamo la possibilità dell'AirPlay, quindi in questo momento c'è l'Apple TV, quindi mi dà la possibilità di connettere, di duplicare lo schermo dell'iPhone sull'Apple TV e questo non è da poco. E niente, abbiamo questo effetto di tridimensionalità con l'aggiornamento nuovo, quindi abbiamo la possibilità di muovere il telefono, lo sfondo si muove, tipo ci dà l'effetto di tridimensionalità con le icone. E direi di provare Siri. Vediamo che ci dice Siri. Quando è stato inventato l'iPhone 4S? Questi sono i risultati che ho trovato. Ovviamente in confronto all'iPhone, al Siri nuovo, questa ha una voce molto più robotica c'è da dire, le informazioni che ti dà le allaccia sul sito, quindi non ti dice lui, non cerca per poi dirti cosa ha trovato, semplicemente ti butta la pagina di internet con la domanda. Dimmi chi è l'inventore di iPhone. Ti consiglio di visitare il sito web di Apple. Quindi Siri dell'epoca era la inutilità più grande che c'era. Per il resto abbiamo un audio stereo, quindi esce solo sotto, non esce sopra. Abbiamo sensore di prossimità, fotocamera e speaker, come vi ho fatto vedere anche prima, capsula auricolare, scusate. Abbiamo il jack per le cuffie, la cosa più bella da vedere, ma anche più brutta, perché tanto ormai le cuffie con il filo non si usano più. Il bottone di accensione qua sopra, la cosa più comoda che c'è. Poi la cosa che mi ha fatto rivivere più i vecchi momenti, quando cliccavi il bottone del volume, quindi ti usciva questo pop-up davanti, questo design. Adesso, tralasciando la presentazione e tutto. Perché ho preso un iPhone 4S nel 2024? Appunto, memoria non ne ha, RAM non ne ha, le applicazioni non funzionano, solito, di più. Cioè, ormai è proprio tagliato fuori da tutto l'ecosistema. Il design che ha l'iPhone 4S è 10.000 volte meglio. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto, perché, a parte che non editavo video più, che era un bordello di tempo. Quindi dovrò anche di prendere la mano a montare i video. Spero che a voi questo tuffo nel passato con questo iPhone 4S vi sia piaciuto. Adesso farò il momento copertina. E nulla. Ci vediamo al prossimo video, dove proveremo a fare il jailbreak a quest'iPhone. Ciao ciao.